Quello che si temeva è arrivato nel pomeriggio di ieri. A seguito del sopralluogo la Commissione Provinciale dei Pubblici Spettacoli ha confermato per lo stadio di Selvapiana la capienza di 4.000 spettatori che a causa delle limitazioni anti-covid saranno la metà 2.000. Tutto questo pare per problematiche legate al materiale della sala GOS sottostante la tribuna stampa dove sono tutti i box in sequenza e sembra anche per i copriferro non del tutto nascosti nelle tribune laterali. Non solo le principali eccezioni mosse dalla Commissione riguardano anche le barriere che separano i parcheggi destinati alle opposte tifoserie. Dovrebbero essere alti 2,50 m mentre pare che il riscontro di ieri sia stato di una ventina di centimetri inferiore. Da qui nasce in sostanza il diniego di aumento di capienza contro la Fidelissandria domenica confermati i 2.000 presenti così come era successo contro il Taranto. Il comune di Campobasso ha diffuso nel giro di qualche ora una nota stampa con cui ha assicurato che verranno messe in campo altre risorse per provvedere a stretto giro a rettificare le opere ma la reazione più rabbiosa è stata quella della società del Campobasso espressa in un comunicato stampa fiume in cui il Campobasso stesso non le manda a dire alle istituzioni competenti. Abbiamo perso ancora una volta esordisce il comunicato comunque vada contro l'Andrea Campobasso uscirà sconfitta. La Commissione di Vigilanza ha negato di nuovo l'apertura dei settori rimessi a nuovo dopo i lavori effettuati a Selvapiana. Una tattica in un certo senso subdola prosegue il comunicato del Campobasso. Una sorta di melina indolente per rimandare all'infinito un verdetto legittimo anche a costo di provocare un danno assurdo in termini economici e di immagine per la società ma anche per il territorio. L'aspetto che più fa rabbia è dal nostro punto di vista che la sicurezza non c'entra nulla. La Salagossa è stata sistemata secondo le indicazioni dice il Campobasso. Manca a questo punto solo l'inalzamento da 2,20 a 2,50 della recinzione del parcheggio ospiti. Ci auguriamo che il Comune la realizzi quanto prima, speriamo in tempo, per la partita contro la Paganese. La Commissione deve spiegare l'attinenza del parcheggio ospiti con l'aumento della capienza dei settori destinati ai tifosi locali anche se il timore che venga fuori qualche altra problematica pretestuosa rimane, prosegue il comunicato della società Rosso Blu. Già perché però per noi ora è tutto più chiaro. Semplicemente non si vuole che a Campobasso si giochi una partita con più di 2.000 spettatori e magari lo si faccia anche senza la presenza dei tifosi ospiti così c'è meno lavoro da svolgere. Se a qualcuno dà fastidio che a Campobasso si possa tornare a respirare calcio di un certo livello lo dica subito, tuona il comunicato. Dopo due anni di pandemia e dopo tanti investimenti fatti si rischia di far morire di nuovo il calcio nel capoluogo di regione. Giocare smorzando l'entusiasmo del pubblico innesca una lenta ma inesorabile agonia soprattutto per una società che da marzo 2020 ha dovuto rinunciare al botteghino. Di fronte a questo tipo di atteggiamento nessuno si meravigli se si dovesse giungere a soluzioni anche clamorose. Consì non si va da nessuna parte. Noi ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità in primis quelle economiche. È il momento che ognuno si faccia carico delle proprie. Non è più accettabile che a Campobasso non si riesca a far disputare una partita con più di 2.000 spettatori perché le autorità preposte giocano a nascondino. Continua il comunicato del Campobasso. Noi non ci stiamo più. Sono già andate in fumo centinaia di migliaia di euro in termini di incasso. La sensazione è che in quello che dovrebbe essere il momento di maggiore euforia per la conquista della terza serie nazionale si sia invece imboccata la strada del capolinea. Un comunicato durissimo questo del Campobasso in cui si parla anche di soluzioni clamorose. Se dovesse persistere questa situazione di accesso limitato di spettatori allo stadio. Una questione davvero spinosa che, lo speriamo davvero tutti, potrebbe essere risolta nel giro di meno di una settimana in vista della seconda partita a Selva Piana del 3 ottobre contro la Paganese. Gli stessi tifosi rosso-blu hanno scatenato la loro rabbia sui social manifestando a chiare lettere l'insostenibilità della situazione stadio. Riguardo l'aspetto sportivo la squadra sta preparando la gara di domenica contro l'Andria seduta mattutina in palestra ha preso regolarmente parte ai lavori il difensore Lucas Bardella uscito malconcio dalla gara di Castellammare di Stabbia. I lupi proveranno a regalare ai tifosi rosso-blu il primo successo interno dopo il ritorno fra i professionisti. Grazie a tutti.